dichiaro aperta la votazione 15 favorevoli 552 contrari nessuno la camera approva Paolo non avrebbe senso un museo su di me non ancora dottore quello di oggi è una vittoria di Berlusconi possiamo dire meno male che Silvio c'è buongiorno a tutti hanno appena fatto la conferenza nel centrodestra sì assolutamente sì centrodestra unito compatto e vincente visto che 8 miliardi finiscono nel sistema delle imprese invece che in monopattini in banchi con le rotelle vediamo se è un inizio siccome noi abbiamo sempre tenuto la stessa posizione verso il governo e cioè siamo disposti a votare gli scostamenti se ci dite cosa fate con queste risorse abbiamo dimostrato che la colpa della mancanza di una collaborazione era della maggioranza come cambia posizione noi la responsabilità ce l'abbiamo sempre messa per aiutare l'Italia non che c'è l'interesse di aiutare il governo ma l'Italia sì potrebbe essere l'inizio di una è la fine dell'isolamento della maggioranza si tu peggia una vipera mentus catolana non posso più campare non posso più